In questa puntata di Unicam News, da 18 anni Unicam al primo posto nelle classifiche Censis e questo anno prima assoluta tra tutti gli Atenei italiani. Unicam apre le porte alle future studentesse e ai futuri studenti. Progetto di ricerca Unicam per un turismo sostenibile nella riserva sentina. Anche quest'anno Unicam presente a Fosforo a Senigallia. Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento con Unicam News. Abbiamo appena visto i titoli, ora andiamo nel primo servizio. L'Università di Camerino ancora da record e quest'anno diventa anche maggiorenne. Per il diciottesimo anno consecutivo, infatti, Unicam si conferma al primo posto nella classifica degli Atenei italiani fino a 10.000 studenti, stilata come ogni anno dal Censis. Unicam è inoltre prima tra tutti gli Atenei statali. L'Università di Camerino è inoltre prima in assoluto tra gli Atenei statali con il punteggio di 98,2 migliorando i punti acquisiti in ogni voce, servizi, borse, strutture, internazionalizzazione, occupabilità fino al punteggio massimo di 110 ottenuto per la comunicazione e i servizi digitali. È un risultato incredibile, importantissimo e ringrazio tutta la comunità universitaria perché è un risultato che si può conseguire solamente quando una comunità coesa si stringe attorno al nostro Ateneo, si stringe attorno a queste nostre strutture e lavora con uno spirito di abnegazione e con un impegno superiore alla media. Il risultato è sorprendente. Quel 98,2 ci dice che siamo cresciuti di quasi 5 punti rispetto all'anno precedente. Un balzo incredibile, fatto grazie ad alcuni settori, in primis quello della comunicazione e dei servizi digitali che hanno ottenuto la valutazione di 110, la più alta in Italia. Essere i primi fra i piccoli era già un grande risultato, ma aver conseguito il punteggio più alto ci riempie veramente di gioia. L'ho vista stamane anche negli occhi dei ricercatori che ho incontrato, negli occhi delle persone che venivano a lavorare, del personale tecnico, negli occhi dei ragazzi ieri sera. Ho visto grande soddisfazione e fierezza e la felicità nel poter dire Io sono Unicam, il nostro Ateneo, e continueremo a lavorare per lui. Hanno preso il via nei giorni scorsi dalla sede di Camerino gli Unicam Open Day, l'iniziativa di orientamento esclusivamente in presenza per conoscere da vicino l'Ateneo, i corsi di laurea, le strutture e i servizi in tutte le sedi dell'Ateneo. Il 29 luglio, ad essere aperti e visitabili, saranno i laboratori a Camerino. Dal 1 al 6 agosto e dal 16 agosto al 3 settembre è attiva sia in presenza, sia in modalità telematica, l'iniziativa Porte Aperte in Unicam estate 2021. Consultando il calendario disponibile nel sito orientamento.unicam.it, è possibile prenotare l'appuntamento per avere tutte le informazioni sui servizi, sulle strutture e sui corsi di laurea attivati dalle cinque scuole di Ateneo. Architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, scienze e tecnologie. Un patto d'area tra stakeholder ed istituzioni per la gestione e la salvaguardia di territori ed aree protette, grazie alla condivisione di Best Practices. E' questo l'obiettivo del progetto che vede tra i partner anche il gruppo di ricerca coordinato dal professor Andrea Catorci della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e che porterà alla stipula di un protocollo d'intesa tra le istituzioni per una gestione sostenibile della riserva naturale sentina, la più piccola area protetta marchigiana, ma con una grande valenza ambientale. Il progetto che Unicam ha vinto è un progetto MED, dal nome Costing Plus, che ha come finalità principale quella di unire due tipi di esperienze, una che abbiamo fatto noi come Unicam nel progetto CREW, che sta arrivando a termine e che ha visto, era un progetto interreg, che ha visto l'Università di Camerino insieme ad altri partner impegnata nel definire le Best Practices per quanto riguarda la tutela e la gestione delle aree protette attraverso la formazione di patti d'aria. L'altro invece sono le esperienze che arrivano da un progetto in cui Unicam non era presente, che era Costing, che invece era un progetto legato al turismo sostenibile nelle aree costiere del Mediterraneo. Quindi questo progetto oggi vuole mettere insieme queste due esperienze per arrivare a una forma di turismo sostenibile attraverso la formazione di patti d'aria nelle aree costiere. Unicam in questo progetto è il partner scientifico e collaborerà con il parco regionale, la riserva regionale della Sentina per l'inserimento del pacchetto di conoscenze, di metodologie che viene dal progetto Costing all'interno del patto d'area della Sentina. Anche quest'anno Unicam ha partecipato a Fosforo, il Festival della Scienza di Senigallia, con eventi e laboratori per bambini e ragazzi. Docenti e ricercatori dell'Ateneo hanno tenuto divertenti e coinvolgenti attività laboratoriali di chimica con vermi e slim, matematica con giochi di logica, geologia, la scoperta del pianeta Terra, fisica con onde gravitazionali e universo, informatica e biologia della nutrizione. Il Museo delle Scienze ha invece illustrato i colori della natura. Evento serale domenica con E ritornammo a rivedere le scienze, nel corso del quale il Rettore Pettinari, con studentesse e studenti dell'Ateneo, hanno reso omaggio a Dante, mostrando tutta la scienza presente nella sua immensa opera. La biodiversità in gioco è stato invece il tema dell'incontro a cura dei docenti Paola Scocco e Andrea Catorci, che hanno illustrato che cos'è la biodiversità anche giocando con i bambini. E con questo è tutto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì alla stessa ora. Vi ricordiamo che potrete trovare altre utili informazioni sull'Università di Camerino sul sito internet www.unicam.it. Grazie ancora e buona serata.